Grazie ragazzi che vi interessate se sia vivo o no, ma sì sono vivo, solo che sono molto impegnato con le inaugurazioni, quindi non riesco a stare tanto su Instagram, oggi mi rifarò. Grazie ragazzi che vi interessate se sia vivo o no, ma sì sono vivo, solo che sono molto impegnato con le inaugurazioni, quindi non riesco a stare tanto su Instagram, oggi mi rifarò. Grazie ragazzi che vi interessate se sia vivo o no, ma sì sono vivo, solo che sono molto impegnato con le inaugurazioni, quindi non riesco a stare tanto su Instagram, oggi mi rifarò Grazie ragazzi che vi interessate se sia vivo o no, ma sì sono vivo, solo che sono molto impegnato con le inaugurazioni, quindi non riesco a stare tanto su Instagram, oggi mi rifarò grazie ragazzi che vi interessate se sia vivo o no ma sì sono vivo solo che sono molto impegnato con le inaugurazioni quindi non riesco a stare tanto su Instagram oggi mi rifarò